Dallo spazio vediamo come questa terra di notte si illumini come un albero di Natale, specialmente l'Italia, detto fra di noi, e cercare di fare un atto simbolico, però importante, nell'appartere questo impatto che abbiamo sulla natura è sicuramente importante, vogliamo lasciare questa nave in viaggio nell'universo e preservare questo viaggio. Siamo pronti? Come avviene? Eccoci qua, siamo moderni noi, abbiamo un tablet con tablet, siamo pronti. 3, 2, 1, 3, 2, 1, ecco, si aspetta il Colosseo, è cominciata l'ora della terra, l'ora della terra che si concluderà alle 21.30 a Piazza San Dietro, quando si accenderanno le luci di noi, che rimuovono lì, e in diretta, questa immagine davvero inedita e spostiva del Colosseo, sarà una preghiera.